Dottore, le spiego, l'umanità lo divise in due categorie di persone, uomini e caporali. I caporali sono coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, senza avere l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce tosse. Aspetto te e guarda te, ascolto te che quando parlo non mi ascolti, ti aspetto ore sotto il balcone. Parlo col cane del vicino e do un bastone, non mi rassegnerò, no no no, io vorrei darti una lezione col bastone. Ancora a te, tu guardi a me, e parli te col tuo parlare ben forbito. Sono incazzato, sono imbecile, voglio vedere il tuo tetto far scintille, non mi rassegnerò, no no no, io vorrei darti una lezione col bastone. Parola a me, parola a te. Mi dici che la mia parola non vuol nulla, non sono un uomo, sono un bambino, e poi sorridi con la faccia da cretino, non mi rassegnerò, no no no, io voglio darti una lezione col bastone. Vengo da te, offrimi un tè. Casa da te, casa da te che hai comprato coi miei soldi, la mia fatica non vale un cazzo, è colpa tua se ci troviamo quest'andazzo. Non mi rassegnerò, no no no, io voglio darti una lezione. Non mi rassegnerò, no no no, io voglio darti una lezione col bastone. Non mi rassegnerò, no 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 Io voglio darti una lezione, col bastone